buongiorno a tutti mi chiamo simone aliprandi sono un avvocato mi occupo di diritto alla proprietà intellettuale di diritto le nuove tecnologie e in questa serie di video vi spiego un po come funziona la block chain applicata proprio al mondo della proprietà intellettuale del diritto d'autore abbiamo già spiegato come funziona il caricamento di un'opera creativa nella block chain per individuare la sua data precisa di creazione creazione abbiamo spiegato cosa vuol dire tokenizzare un'opera per renderla un nft però ecco nell'esempio dell'nft ci manca un passaggio fondamentale io ho fatto l'esempio in cui è il signor dante ligheri autore dell'opera che tokenizza la sua opera e la rende appunto un nft che poi assumerà un valore più o meno alto a seconda di come il mercato come dire sarà interessato a questo tipo di contenuto e soprattutto di copia unica ok chiaro che appunto l'opera firmata da dante ligheri avrà un valore molto più alto rispetto all'opera firmata da simone alibrandi ok e cosa volevo dire ecco il fatto che nell'esempio che abbiamo fatto noi sia dante ligheri stesso a firmare a tokenizzare la sua la sua opera pone un quesito nel mondo dell'editoria funziona spesso che gli autori cioè succede spesso che gli autori cedano tutti i diritti di utilizzazione della loro opera a una casa editrice ok vuol dire che per tutta la durata del contratto il titolare dei diritti non è più l'autore ma è appunto la casa editrice o altro titolare dei diritti ad esempio un'agenzia ad esempio un produttore a seconda del tipo di opera ipotizzando appunto tenendo questo esempio che il signor dante ligheri avesse sottoscritto un contratto di edizione con una casa editrice le monier mondadori che ne so feltrinelli la domanda è è davvero dante ligheri il soggetto titolato a creare l'nft di quest'opera questo è poi il quesito perché l'ho visto fare molte cioè come dire se ne parla molto ma pochi hanno messo a fuoco il problema perché perché creare un nft è sicuramente una forma di utilizzazione economica dell'opera se l'autore ha ceduto il diritto di utilizzazione economica intero quindi tutti i diritti di utilizzazione economica di sfruttamento economico sulla sull'opera a una casa editrice probabilmente non può fare un nft e metterlo in circolazione cercando di guadagnarci lui direttamente senza avere il benestare della casa editrice o addirittura sarebbe la casa editrice il soggetto titolato a fare l'nft provate a pensarci perché questo è un problema che secondo me prima o poi come dire emergerà tanti autori di libri o anche di fotografie o di altri tipi di opere digitali che da un lato hanno sottoscritto dei contratti di cessione dei diritti sulle loro opere adesso invece che cercano di cavalcare un po l'onda della della questa moda di nft e lo fanno magari senza aver ben presente cosa comporta mi sembra un po mi ricorda un po quello che succedeva ormai 10 15 anni fa quando io ho iniziato ad occuparmi di licenza di creative commons e molti soprattutto musicisti all'epoca presi dall'entusiasmo rilasciavano le loro opere e loro opere musicali sotto licenza creative commons senza però ricordarsi di un problema fondamentale che se quelle opere erano state i diritti autore su quelle opere musicali erano stati ceduti ad una casa discografica ad un'edizione ad un'editrice musicale purtroppo applicare una licenza creative commons non era la mossa più intelligente da fare perché si creava confusione perché da un lato circolavano delle copie dell'opera con licenza creative commons e gli utenti quindi le replicavano le riutilizzavano liberamente dall'altro lato c'era però una casa editrice una casa discografica che legittimamente esercitava il suo diritto d'autore in modo invece più restrittivo ok quindi state attenti a non replicare lo stesso tipo di errore con gli nft e soprattutto per chi li compra state attenti a non comprare delle sole come direbbero a roma cioè a comprare degli nft emessi da un soggetto che non è titolato per farlo alla prossima allora mi raccomando state in campana anche se un'edizione ad un soggetto che non è un soggetto che non è un soggetto che è